Questo è un tema che in qualche modo ha a che fare con la città metropolitana, perché ovviamente questa fase di transizione molto delicata, su cui bisogna tenere gli occhi non aperti ma di più, da qui a dicembre rischia di avere dei contraccolpi. La provincia recentemente non vi sarà sfuggito, ha fatto una delibera con cui ha sospeso tutti i pagamenti, per esempio con riferimento a gare sulle scuole, le strade e quant'altro, Sapna vive un momento difficile, il comune di Napoli sta pagando e pagherà tutto. È vero che ci sono dei comuni che non hanno pagato e questo non va bene, perché le difficoltà ce le hanno tutte e quindi ieri il prefetto dal quale siamo stati ha preso un'iniziativa che io condivido molto di sollecitare tutti a fare la loro parte, non c'è nessun rischio per Napoli, per la provincia di Napoli, però bisogna fare un grande lavoro perché queste fasi di transizione fanno risentire come dire di momenti delicati all'interno di aziende che non hanno un futuro certo, la traduco, mentre Asia ha un futuro certo perché la città di Napoli e la città metropolitana rimangono, Sapna non sa che destino fare, quindi quando non sai qual è il tuo destino è chiaro che delle tensioni che vengono gestite in modo ordinario quando è vita quotidiana in questi momenti c'è un po' una fase di tensione. Noi abbiamo fatto la nostra parte, devo dire la faremo anche di più perché ci vogliamo già un poco porre come città metropolitana e quindi staremo vicino anche ai comuni che stanno in difficoltà, poi sono altri che per la vita devono fare la loro parte perché sono comuni che hanno dato un euro, andatevi a vedere l'elenco, ci sono alcuni comuni che effettivamente a Sapna hanno dato alcun euro, quindi la fase è delicata ma non c'è nessun rischio, lì è stata una riunione molto profigua in prefettura, il prefetto ha svolto un ottimo lavoro, con la provincia stiamo lavorando, stamattina saranno date ulteriori risorse economiche a Sapna e da qui a dicembre c'è un piano di rientro complessivo di 50 milioni di euro da parte del Comune di Napoli, quindi noi faremo la nostra parte e con questa somma garantiamo tutta l'area metropolitana. Stamattina hanno dato una somma poco inferiore ai 3 milioni di euro e altri 10 milioni entro fine giugno.